Su DG di amici sportivi e bentornati a Chiedi al Bardo, l'unica videorubrica che risponde alle vostre domande sul wrestling. Oggi mi chiedete come funzionano i promo in WWE? Beh definiamo cos'è un promo. Promo significa sostanzialmente qualcuno che parla, può essere nel backstage, può essere nel ring, può essere all'esterno dell'arena, può parlare da solo, quindi un monologo rivolgendosi ai fan, oppure può parlare insieme ad altre persone, magari ad altri wrestler, oppure al general manager o agli stati generali del suo programma. L'importante è che si parli. I promo servono sostanzialmente a raccontarci delle storie, a portare avanti le storyline della federazione e a creare attrito tra i combattenti. Inoltre il promo è anche un buon veicolo per vendere gli eventi a pagamento, i cosiddetti pay per view. Ora la domanda è quanto c'è di spontaneo quando un lottatore parla all'interno di un programma televisivo WWE? Negli anni 80 e 90, anche durante l'era Attitude, esisteva uno schema a punti. Stiamo ovviamente un po' sintetizzando per non allungarci troppo nella risposta. Come funzionava? Era molto semplice. Ai lottatori o al lottatore interessato venivano elencati dei punti che doveva tassativamente centrare, con la sua arte oratoria. Potevano essere l'astio verso un determinato nemico, il vendere, l'evento pay per view successivo, quindi il creare hype, attesa, aspettative, o magari il mettere in evidenza che ne so un problema fisico. Non sto bene alla caviglia ma combatterò lo stesso, di modo che poi l'avversario colpendolo alla caviglia seguisse uno storytelling interno al match che tutti potessero seguire e comprendere perché è legato a dichiarazioni precedenti. Questo schema è venuto a decadere, credo ormai da probabilmente più di un decennio circa, stiamo un po' larghi, un decennio largo. Perché? Perché si è innalzato lo standard qualitativo della compagnia, della WWE, ma anche perché oggi essere politically correct è fondamentale e non devi pestare i piedi a nessuno. Vedete anche voi in giro com'è semplice provocare reazioni negative da parte di determinati gruppi, magari nemmeno quella era la tua volontà, non lo desideravi, eppure qualcuno si sente offeso, si crea uno sciame di interesse negativo e tu come compagnia o entità che opera nel mercato ne vieni coinvolto negativamente. Ogni tanto mi impappino un attimo perché passo un sacco di gente qua negli uffici Sky e tutti che mi guardano. Allora, questo è lo schema appunti, ora maggiore attenzione, maggiore radar su quello che succede in TV, tanti gruppi di ascolto, tante persone da contentare e allora la federazione è diventata sostanzialmente identica nel modo di fare alle compagnie cinematografiche. Gli atleti hanno un copione ben stabilito che devono imparare. Io li ho visti in America quando entrano nel ring a parlare, loro hanno praticamente per filo e per segno segnato quello che devono dire. Chiaro, possono cambiare qualche congiunzione, possono modificare qualche parola perché un esercizio mnemonico per tenere a mente un discorso magari di dieci minuti è molto molto complicato, ma lo schema delle battute, cosa devono dire le battute, quello che l'atleta deve trasmettere e come lo deve trasmettere è completamente deciso a tavolino. Per questo ogni tanto quando leggo l'atleta tal detali ha poca mixed skill, non sa parlare, sono un po' critiche molto diffuse all'interno dei forum dedicati al wrestling o alle discussioni tra appassionati, un attimino mi incubisco, semplicemente perché quando Roman Reigns, faccio un nome a caso, entra nel ring e dice qualcosa che non ha mordente o presa sul pubblico, non è stato certamente lui a scegliere di dire quelle cose, ma gli sono state imposte da copione. Tant'è che Roman Reigns soprattutto all'inizio anno, 2016, anche un po' prima, in alcune dichiarazioni nel ring effettivamente appariva molto molto fragile, poi quando l'abbiamo intervistato a Vresta Almenia ci siamo detti, caspita, quando può andare a ruota libera, non è Demiz per dire che è uno che ha una grande proprietà lessicale, però comunque si sa difendere, sa parlare, sa discutere, sa mettere assieme concetti anche complessi e presentarteli in maniera molto gradevole. Quindi ecco, non c'è niente di improvvisato, tutto è stabilito con la massima precisione e cura. Chiaramente esistono atleti che possono deviare da queste regole. John Cena è uno dei pochi tra quelli sotto contratto in pianta stabile, perché John Cena ha capacità parlatorie ed esperienza e valore di mercato tale che si decide di sua iniziativa di fare qualcosa, va bene, perché lo fa sicuramente per motivi seri ed importanti. Quando arrivano alcuni part-timer ovviamente godono della medesima libertà. Vi ricorderete un The Rock of Vresta Almenia che va a parlare con i fan, che interagisce con loro, insomma The Rock può fare quello che vuole, perché The Rock? Perché parlare è il suo pane quotidiano, perché ha uno status, è una comprensione ovviamente del business, del wrestling, che non lo porterà mai a mettere se stesso o la federazione in cattiva luce. Io vedo i copioni che arrivano in Italia, ve ne ho parlato in altre rubriche, il rundown, a noi chiaramente arriva un rundown molto limitato, quando qualcuno parla, c'è scritto soltanto promo di Parla Roman Reigns, oggi potrebbe essere Seth Rollins, Kevin Owens, mettete il nome che più vi piace. In America invece quando c'è lo showtime ci sono dei rundown molto molto più completi, che sono quelli che circolano nel backstage, dove effettivamente gli scambi, la lunghezza temporale di quanto deve durare, una diatriba verbale, tutto quanto, sono veramente sviscerati come se fosse un copione cinematografico, come se stessero recitando, che ne so, il nuovo film di Star Wars o del Signore degli Anelli. E sono cose importanti da tenere a mente, perché la capacità parlatoria di un atleta, che noi valutiamo spesso su basi incomplete, se tenete presente il ragionamento che sto facendo, dipende in realtà anche da molte altre cose che a noi non sono visibili, ovvero se nei tempi richiesti dice quanto è stato richiesto. Mi sembrerà assurdo, ma Ro in America ha un sacco di pause pubblicitarie e tu devi stare nei tempi, non puoi sforare, devi essere anche abile a capire, chiaramente hai dei segnali, hai delle indicazioni, quando devi accelerare, quando invece puoi prenderti maggior respiro per interagire anche con i tifosi. Quindi andando ad analizzare proprio la skill parlatoria dei combattenti ci sono degli aspetti effettivamente che sfuggono ai più perché ci si concentra su quelli che apparentemente sono i più semplici e banali, ma in realtà sono quelli più distanti dalle concrete abilità di un lottatore. Poi ovvio, se uno ci mette quella convinzione che ti fa sentire vere certe parole, beh chiaro quello è un merito suo, ma a volte è anche difficile vivere delle sentenze che tu non diresti mai nella vita e non direbbe mai al tuo personaggio che a volte, sai, nessuno è sempre maestro, e a volte ti vengono scritte e tu francamente riputi un pochino troppo diverse da ciò che sei e da ciò che rappresenti. Bene, i promo funzionano così, non credo ci sia altro da aggiungere, tra l'altro queste cose le ho anche viste ripetutamente dal vivo negli States, quindi credo che la risposta sia completa. Tuttavia, se volete aggiungere qualcosa, se avete altre informazioni o magari qualche episodio storico su promo finiti male, su discussioni che dovevano andare in un modo e poi invece sono degenerate, insomma qualunque cosa voi vogliate aggiungere di pertinente a questa discussione, di daro venti qua sotto, aspetto i vostri commenti. Se già non vi siete iscritti al canale vi prego fatelo così il mio ego smisurato ne sarà lieto e guardando il numero che sale mi sentirò sempre più figo. Vabbè, grazie mille anche oggi per la fiducia che mi avete dato e ci vediamo sempre solo qui con chiedi al bardo, yeah!